Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su War Thunder. War Thunder non l'ho portato da un bel po', l'ultima volta che l'ho portato ero a BR Bassissimo, avevo appena iniziato a giocare con l'Unione Sovietica e la Gran Bretagna, ma adesso è diverso, sì, decisamente diverso. Sono arrivato a Top Tier, adesso sto finendo di grindare il MiG-23 e oggi giocheremo con gli USA, anche con loro sono abbastanza avanti, ma andremo a giocare Carri BR-3-E3. Hanno aggiunto la 10, sì, penso, non so se ci fanno un video a parte, onestamente non è nulla di che. Sono insieme ad un mio amico che avete già visto anche nel video di ieri, di Ark Survival Evolved, che mi ha corretto un paio di volte. Partiamo. Attenzione, siamo su una mappa urbana in Svezia. Ah, beh, beh. Abbiamo gli Sherman con i stabilizzatori di prima generazione, quindi non è a doppio piano, quindi non è del tutto stabilizzato. Soltanto dai venti in giù è stabilizzato, però... Io direi di partire con gli Steward. Eccoci qui con il nostro Steward, veicolo da ricognizione. Non so quanto riusciremo a fare, effettivamente. Il 37 se lo usi bene fa bene. Sicuro? Perché devi spero usare bene. Ok. Io sto andando su C e probabilmente proverò a camperare. Sì, no, cioè, no, non lo dovrei dire questa cosa, ma vabbè. Sono insieme ad un Soki, che è un giapponesino. Mamma mia, un giappa giappa. Tanto le enti è io. Tu cosa? Una Browning 19-11? 19-19. Al massimo io provo a flancare C, non vado direttamente dritto. Lo ha lo stabilizzatore, sto roba? No, questo qui no. Ok. Ok, i nemici stanno già cappando C? Ok, vedo che nessun nemico ha avuto la mia stessa idea. Quindi sono da solo qui, ma mi sa che mi hanno sentito. No, non le tue ore... Eh, c'è un T-80. Non quel T-80. Una Puma, uccisa. Ok. Mi metto per il carro russo. Cazzo, non gli ho fatto nulla al carro russo. C'è un BT-5. Te lo spotto, spottato. C'è da me un BT-7. Preso, morto. Vedo un BT-7 lontano, gli sparo. No, no, secondo me che l'ho caricato, non fu il mio. Ok. Ce n'è un altro. Ok, l'ho mandato a fuoco. Ok, morto anche lui. Ok. Io sono qui alla tua sinistra, eh. C'è qualcosa? Negativo, non vado niente momentaneamente. Sento un motore alla mia sinistra. Sì, decisamente. Stug, stug, tu hai stug, tu hai stug. Oddio, oddio. Ritirati, ritirati. Ringato uno. Ok. Io li aspetto qui. Mi stanno guardando a me. Riesci a coprirti? Sì, sì, sì. Tu pusha lì. No, no, li aspetto qui, li aspetto qui. C'è anche un Panzer qualcosa. Ok. Non, non... Copriti, dai. Non ti sporgere. Appena ti pusha un po' io gli sparo. Un pizio ha un Panzer di merda. Falle avanzare, falle avanzare. Eh, se avanzo io... Se loro avanzo non sono morto, eh. Eh, no. Guarda dove sono io. Falle avanzare. Fidati, fidati. Ci sono tipo quattro carri. Lo sai vero? Va benissimo. C'è uno Stuart che li vuole flancare? Arrivo anch'io. Ehi, Stug. No, no, no. Fermo, 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 fermo. Allora, aspetta. Eh, ok. Stug 3, te l'ho pingato. Servirebbe artiglieria. Tu l'hai? L'ho già mandata da prima. Ok. Oh, oh. Ok, Stug grande. Aspetta, posso sparare l'altro? No, cavolo. Sì, cioè, ci sono tre Stug 3. Due ora, uno è morto. C'è anche un Panzer 3. Andiamo bene, oh. Ok, li ho pingati tutti. Panzer 3, ma secondo me è meno di qua, perché l'ho scarpa male. Mi sa che quello lì si sta riparando. Integro. Eh sì, non riesco a penetrarlo uno Stug in frontale. Qua, ma no, non posso dire. Eh, vuoi dire che mani di qua? Boh, il Franco, mette là. Eh, vengo con te, vengo con te. Tanto abbiamo già abbastanza carri da sta parte. Vai, 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 andiamo, 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 andiamo. Allora, in teoria ci sono ancora uno Stug dovrebbe essere in vita. No, ma c'è una barriera. Però gli Stug stanno andando verso questa parte. Ok, ok, andiamo, andiamo, andiamo. Vai, 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 vai. Ok, cazzo, Arola, mi ha fatto spaventare. Non andare qua, perché c'è lo Stug che sta guardando qua. Sicuro? Sì, sì, l'ho visto che sta abbastanza nel cuore. Ok, ok, ok. Quindi, Gip Plung lo flanchiamo un po' dal culo. Ok, 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 c'è la sua lì. Vai, vai, vai. E io sono più lentino. Dov'è? Oh, l'ho visto, l'ho visto? Ok, non spara più, non spara più, non spara più. Mi fa torciire servente. È morto. Devo riparare. Ok, c'è il prototipo del titan tra 4, non mi viene il nome. Ok, ma non spara, non spara, non spara. No, non lo riesco a penetrare, fuck. Vai via, vai via. Eh, sì. No, tu un di treggi. Lui ti segue e mi dà al fianco. Ah, ma non può sparare, non può sparare. Aspetta, no, me lo faccio. E invece no. Su 5, un cacciacarri. Non so se t'ha visto a te. Vabbè, mia penna è da, non potevo fare nulla. Ok. Vengo direttamente con il P-51 io, con i cannoni da 20. Arrivo. Sto robo surriscalda un botto, quindi devo stare attento. Ok. Ho ciò che è sempre lì nella piazza, c'è il su 5. Adesso non so dove è andata. Non so dove è andata. Vabbè, ma tanto è scoperto, quindi al massimo me lo faccio io. Perché sei un caccio? Sì, ho preso il P-51. Non trovo il tizio. Eh, stai attento, eh, che quel robo ti penetravo ovunque. Dovrei occuparmi degli Stuga lì di prima, però... Vedo un B-1. No, quella, quella, quella. C'è un caccia nemico? Non riesco a spottarlo? Lo sento, però. Ah, no, era un alleato, ok. Ho visto su uno, ho visto su uno, in seguo. Mi dà il cubo. Ok. Ah, l'ho visto, mi sa. Sì, lo vedo, lo vedo. Arrivo. Non posso perché mi dà mi... Ho ucciso. Bel lavoro. Purtroppo sto robo non ha bombe, non ha nulla. Vado su C per difendere, che è vuota. Ok. Puoi farmi, puoi farmi recco un aereo su C? Ho ricevuto. Che in urbano, senza stabilizer, è molto più complicato. Guarda, ti dico subito che ci sono gli alleati che hanno pushato più avanti di C. Quindi, eh, C sembrerebbe libera. Ok. Però, sto guardando se vogliono provare a flancare, ma non mi sembra. Ok. No, sei libero, sei libero. Ok, grazie. Sei attento lì, però? Cosa c'è? Oh, oh, aspetta. Andato. Era abbastanza lontanino. Cos'è quello? Ah, quello è un prototipo sovietico. C'è un carro davanti a te che sta prendendo fuoco. È vivo? Sì, lo vedo, lo è un Panzer III. Ok, riesci a farlo? Sì, credico, artigliere. Ci sono spawnati un altro paio di Panzer III. Ok, l'ho ucciso. Panzer... Ah, madonna, era un F2. Ok. Puttana. La puttana, bravo, Roby. E vedo anche altra roba, mi sa che vado a fa' altro... Sta arrivando un BT-5 davanti a te. Decivuto, mi rimango qua allora. Ok, ho ucciso un altro. Oh, ma sto 20 mm è OP, eh? Avete fatto il BT-5? Ah, era un BT-7, è morto, ok. Vabbè, questa cosa non cambia il cazzo. E non hanno più nulla, letteralmente. Sì. C'è un testo, non mi dà. Sento il motore. Sì, c'è una smoke. È appena esploso. Sono andro a campo. No, sei libero, sei libero, sei libero. Aia, un'antiaerea. Eh, mi sa che muoio. Sì, sono morto. Però, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Prima partita, direi che è andata benissimo. Prendiamo... Io prendo il 105, mi piazzo su C e... Fast and Furious, Fast and Furious. Non sono più veloce. Oh, c***o. No, no. Sasso, no. Non ho guardato. No. Duka! No. No. Oh, oh. Dio, c'è un M10 che si è ribaltato. Ha il baco della palma perché è un nemico del D. Io, 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 io. Io, io, io. Sono uno schermo. Pagato con i soldi dei contribuenti, porca troia. Pagato con i soldi dei miei cittadini. Sono qui per rivendere la democrazia americana da voi nazisti. Facciamovi imparare la democrazia. Facciamovi imparare. Facciamo... La esportiamo, non è che la insegniamo. Esatto, noi la esportiamo. figli di puttana. Ciao. Dove si è? Dai. Non ti affanculo. Go, 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 go. All the way to die. Go, go. Go, 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 go. Eh, che vuoi che ci faccia il KV1. Assista. And say no jump no more. Go, 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 go. All the way to die. All the way to die. All the way to die. Dove, 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 dove? Cioè, scusa, c'è Binuita che si è messo davanti. Non vedo nulla. Sasso, che cazzo? Dove sei andato, Sasso? Eh, questo è capo di giro, però. Dai, aggrappati, aggrappati. Vieni, Sasso. Vieni. Vieni. No. 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 Ti tiro fuori. Ok. Oh, cazzo. Oh, oh. Cazzo, dai, cazzo. Dove? È morto. Dove? È morto. Carro, T-34, davanti. Oh, fuoco. Ah. Fuoco. Non lo vedo. Pam. Sasso, basta. Togli la richiesta di trainaggio. No, vaffanculo. Io vado tra i miei nemici. Non si deraglia. Oh, da dove? La culatta, la culatta. Non lo so. Da, 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 da. Ah, come dalla destra. Da lì, da lì. Ok. Sì, mi ha fatto. Ah, cazzo. Ahia. Mi ha fatto tutto. Ah. Smoke, smoke. Fuoco, fuoco. Le ho io, le ho io. Grande. Trasmissione rotta. Ti ho trovato a riparare quando l'ho fatto io. Fuoco. Sì, riparato. Ti ho trovato a riparare ora. Grazie. Mi sono morti tutti. Tutti? Mi sono rimasti due in vita. Ottimo. Quasimodo. Grazie. Hanno aggiunto il tasto ringrazio l'alleato. Wow. Carro a sinistra. Sento il motore. È un T-34. Ce l'ho, ce l'ho. Pam. Grande. Eh, però la mia ricarica è lunga come... Oh no, un T-34, no! No! Sasso! Cavolo. Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Dai, arrivo col P-51 se la partita non finisce prima. C'è qualche canzone dei carristi americani, spero. Certo, è che non le conosco. Perfetto. Qui, Hogo 4-1, mi avvicino. Dai, dai. Chi? Cosa, che? Cosa, chi? Mi avvicino a bombardare. Bombardare, poi. Sto 20 mm sfondo tutto. Antiaerea? Non c'è più l'antiaerea? Ti serve aiuto? Eh, sì. Più o meno. Non lo vedo, ma... Allora, è dietro di te! Panzer IV! F2! Vero. Non l'hai visto? Ah, ah! Ah! Antiaerea! No! Ah! È ritirata! No! Perdita olio! Oddio! Via, via! F***! No! Devo assolutamente levare! Gori, gori, what a hell of a way to die! And say no jump no more! Gori, gori! Secondo me si dovrebbero fare più video di sto genere. Secondo me sono pure carini. Oh! È vinta! Anche questa vinta! Poteva andare meglio, decisamente, ma... Verso Tokyo e oltre! Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero veramente che vi sia piaciuto. Almeno io mi sono divertito. Penso anche Sasso. Aspettatevi più video del genere. Soprattutto in compagnia e su War Thunder. Perché... Boh, non lo so. Ci sta. Detto questo, vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. Detto questo... Arrivederci!